Musica Abbiamo il tempo per una rapida notizia Il 9 febbraio comincerà l'attività della Touring Marathon 2014 con la 14esima edizione della Racchette in Valle storica corsa agonistica con le racchette da neve inserite nel calendario della Coppa Europa Sestriel il percorso come l'anno scorso sarà disegnato sul monte Freitev che offre una splendida balconata sulla valle per utilizzare le parole del patron Chiabrera Bene abbiamo terminato, ora le previsioni del tempo terza e ultima edizione intorno alle 23.35 a tutti un buon sabato sera